I ragazzi vogliono vaccinarsi ma i loro genitori sono di tutt'altro parere. Sono due casi di minorenni toscani che vorrebbero immunizzarsi ma che si scontrano con le idee Novax di mamma e papà. Un 17enne di Firenze e un 16enne di Arezzo ne hanno parlato a scuola e così il caso è finito all'attenzione dell'associazione avvocati matrimonialisti preseduta dall'avvocato Gianni Baldini il quale crede che si tratti solo della punta dell'iceberg. La punta dell'iceberg perché immaginiamo che siano molti di più, che sia un malessere diffuso dovuto ad una sensibilità diversa di questi millennial rispetto ai boomer, come viene detto. I giovani la vivono in maniera molto serena, sia la vaccinazione che viene vissuta in maniera razionale come l'unica alternativa per affrontare questo momento, per loro è naturale ed è vissuta come una liberazione, cioè la possibilità di tornare a vedere una partita in discoteca, stare con gli amici, a viaggiare e quindi non comprendono, no? Questo atteggiamento del genitore. I giovani si sono visti negare la firma del genitore al consenso informato per passare alla somministrazione. In uno dei due casi si tratta di coniugi sulla via del divorzio, nell'altro di genitori non sposati. Siccome i protagonisti sono minorenni però, non può essere affidato un mandato ad un legale. La questione dunque potrebbe finire all'attenzione dei servizi sociali o del garante regionale dell'infanzia. Il problema è anche questo, è che l'ordinamento giuridico non mette a disposizione degli strumenti che consentano di un'effettiva tutela di questi ragazzi. Quindi quello che noi faremo nei prossimi giorni sarà quello di convocare, se vorranno venire i genitori, per capire se c'è un punto di intesa e se questo punto di intesa non si trova con le buone purtroppo non rimarrà che una via giudiziale rispetto alla quale però il giovane si trova in difficoltà.